Amici Trevi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di venerdì che vedrà ancora un po' di variabilità interessare le regioni settentrionali, l'ambito ed alcuni sistemi nuvolosi in transito sull'Europa centro-settentrionale e poi un po' di variabilità anche all'estremo sub e quella zona di bassa pressione che però si sta allontanando dall'Italia. Quindi controlliamo intanto le nuvole attese sul nostro paese con appunto un po' di nubi che interessano le regioni settentrionali in giornata e poi anche l'estremo sud ma senza grandi conseguenze. Infatti vediamo le piogge attese sul nostro paese, non sono previste grandi precipitazioni, un pochino di variabilità sull'estremo Levante Ligure a inizio giornata, qualche acquazione sulla fascia alpina prealpina, per il resto solo un po' di variabilità ridosso delle zone montuose. Quindi in definitiva ci attende un venerdì discreto in grampata Italia con ampie zone di sereno, però qualche acquazione sulla fascia alpina prealpina, il Levante Ligure, l'Alta Toscana e l'Appennino centro-settentrionale vedranno qualche acquazione, qualche piovasco e verso sera magari qualche goccia di pioggia potrà interessare anche le pianure del nord-est. Per il resto sole e temperature nella norma, comunque per sapere che tempo farà da voi anche verso il weekend, scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.